Infatti anch'io da poco ho fatto un'intervista con Itoglia, gli ho chiesto ma come mai nell'Antico Testamento questo Dio faceva tutti questi sacrifici? Mi ha dato una bella risposta, però in effetti si è toccando un argomento che anch'io ho letto e mi ha colpito. Perché facevano, uccidevano donne, bambini e cose varie? Sì, li uccidevano per creare una forma di problemi mentali nelle persone. In poche parole coltivavano l'insanità mentale nelle persone per renderli più docili, più sottomessi, più impauriti, più obbedienti. Praticamente ti facevano passare una soglia dove tu, persona normale e buona, che non hai mai ucciso nessuno, non hai mai rubato, non hai mai fatto niente, ti trovi con le mani sporche perché hai fatto dei sacrifici, hai consegnato tuo figlio per essere sacrificato, hai fatto delle cose con le quali non è possibile vivere. Infatti Yahweh in una parte della Bibbia dice ho costretto gli umani a fare delle cose con le quali loro non potevano vivere. Proprio per distruggere il cervello, per renderli sottomessi. Yahweh stesso dice questa è una parte della Bibbia. Adesso io non so dire proprio i versetti a memoria. No, no, certo. Antico Testamento sicuramente. Bravo, esatto. Quindi in qualche parole questo sistema ha terrorizzato intere popolazioni e praticamente, come tu puoi notare, tutte le religioni del mondo, allora alcune religioni hanno un unico Dio, altre religioni hanno molti Dei, alcune religioni addirittura non hanno neanche un Dio, come per esempio il buddismo. Il buddismo non ha un Dio al centro di questa sua religione o religiosità che sia, però tutte, tutte, ma assolutamente tutte, hanno i demoni. Anche il buddismo ha i demoni. Basta farsi una ricerca che il buddismo ha i demoni. Allora, sotto il tappeto di ogni religione ci sono i demoni. Quindi tutte le religioni che noi abbiamo, anche se sono nate a volte anche da intuizioni umane, belle, di amore, di elevazione spirituale, sono state infiltrate da questi Elohim e gli hanno creato un sottotappeto di satanismo. Perché? Tutte sono fondate sulla paura dei demoni, del diavolo, eccetera, eccetera. Perché, voi sapete, non è che la gente si sveglia la mattina e dice, ah, domenica, che bello, quant'amo Dio, vado in chiesa. No! Si sveglia la mattina e dice, ma donna, peccato qua, fammi a confessare, ma visto mai che è tutto vero, insomma, io non ci vorrei andare all'inferno, insomma, allora ti permetti, vado in chiesa. Quindi si seguono le religioni molto più per la paura dei demoni, dell'inferno, del diavolo, che invece è per amore a Dio. Quindi, insomma, è un po' l'inverso di quello che dovrebbe essere. Perché in realtà tutte le religioni hanno un fondo satanista. Allora, questo satanismo dipende dal fatto che gli antichi l'hanno vissuto veramente, questo satanismo. Ma non solo gli antichi, anche l'elite dominante, tutt'oggi, è sotto l'effetto del satanismo, perché i nanorobot non è che non esistono più. Loro ogni tanto prendono qualcuno, gli fanno avere queste, queste che loro non lo sanno ovviamente, queste allucinazioni virtuali, full immersion, completamente indistinguibili, gli fanno vedere i demoni, il diavolo, tutto ciò che c'è di satanismo, e con questo li terrorizzano e li portano ad obbedire e li portano a fare tutto quello che ben sai. Capito? Anche oggi esiste questo. Certo, non è che sempre in tutte le riunioni sataniste c'è qualcuno che ha ricevuto i nanorobot dove ha le allucinazioni pilotate in modo che veda i demoni, eccetera, eccetera. In alcuni casi il satanismo è un po' l'acqua di rosa, nel senso che ripetono alcune cerimonie, invocano alcuni riti magici, fanno alcune cose, ma non perché hanno vissuto l'esperienza diretta, ma perché sai, poi si crea un certo ambiente, fanno dei tempi in una certa maniera dove si praticano alcune cose, eccetera, eccetera. Pure se lì non ci sono i nanorobot, però la tradizione c'è e vanno avanti. Pure se, capito, è una cosa che non ha un riscontro diretto. Ormai quando tu hai lanciato una linea di pensiero, principalmente una linea di terrore psicologico, allora tu, eccola, che tu hai dato inizio a tutta la struttura satanista che poi, tra l'altro, regge e domina i potenti del mondo, i governanti, che poi tutti quanti sono molto infiltrati, molto impregnati da questo satanismo. Dici, ma come mai ci credono? Ma sono così cretini? No, non è che questi cretini gliel'hanno fatto vivere. Per questo ci credono. E qui c'è la tecnologia aliena. Per questo io dico, la tecnologia aliena, da questo punto di vista, è un po' come un trucco di magia. Se tu non conosci il trucco, ci credi. Io mi ricordo quando ero bambino, la prima volta che ho visto una donna segata in due in televisione, ho detto, madonna, vanno uccisa. Ma come? Ma vanno tutti in galera? Ma che hanno fatto? Poi dopo, quando ho capito il trucco, un po' più grandino, ho capito il trucco, ho detto, ma... Ma una cosa, una domanda che viene spontanea, Maurizio, è se questi hanno questa tecnologia, come si riesce... Cioè, se questi hanno il controllo del pianeta e sono così avanti, come si possono sconfiggere? Sì, si possono sconfiggere, se vuoi te lo dico anche adesso, però in realtà metteremo molta carne a fuoco. Ok. Perché io ho ancora una sfizza di cose razzesca da dire. No, no, certo, Giorno, era soltanto mi venuta in mente questa domanda, perché a volte mi spaventa sta cosa, perché io l'ho già detto, loro sono qui da milioni di anni, per quello sono così ricchi, controllano i politici, controllano tutto. L'ho già detto mille volte. è il dollaro, il dollaro è la rappresentazione, la parte alta della piramide sono loro. Esattamente. Però a volte dico, questi hanno il controllo di tutto, sono qui da milioni di anni, conoscono, ci trattano come animali. Esattamente. Vabbè, avrai spazio per rispondere a questa domanda dopo, ok? Grazie, voglio rispondere bene, perché è una risposta importantissima. Certo, certo, certo. Spero che tutti capiscono e tutti utilizzano. Bravo, bravo, sono d'accordo. E quindi facciamo tutto il discorso alla prossima occasione, quando vuoi. Sì. Adesso io qui vorrei continuare, e per parlare del discorso del satanismo, dei satanici, satanici, umani, l'adreno cromo. Per esempio, l'adreno cromo è un classico delle cose sataniche, no? Praticamente tutte le persone importanti del mondo, quelle che comandano, sono dominati dal satanismo, non soltanto perché ricevono dei bei soldi, dei carichi importanti, ma proprio che cambiano paura del satanismo. infatti mettono simboli satanici dappertutto e portano avanti questa pubblicità del satanismo. l'abbiamo visto nelle varie inaugurazioni, no? Tu hai anche mostrato varie volte. Verissimo. E come loro riescono a infiltrarsi, a trasformare una cerimonia che potrebbe essere una cosa carina in una cosa senza senso orrenda. Anche San Gottardo, non so se ti è presente. Esatto, l'ho vista, l'ho vista. Una cosa allucinante. Olimpia di 2012, il capodanno di quest'anno, sì. Sono tutte cose veramente allucinanti. Quindi, praticamente, se noi sappiamo qual è il trucco, il trucco, perché ogni tanto poi non sono soltanto, diciamo, i politici, le persone di potere ad alto livello, i grandi ricchi dell'altissima finanza, ad essere influenzati da questi nanorobot neurali che li fanno avere il terrore del satanismo, ma praticamente con questi nanorobot neurali loro hanno creato anche l'illusione dell'esistenza di un complesso, di un complesso mondo inesistente del soprannaturale, del soprannaturale. Hanno creato tutto un soprannaturale di demoni, di angeli, ma non nel senso degli alieni, che è proprio di angeli, demoni, e tutte le favolette sulla religione. Hanno creato tutto un mondo estremamente complesso. E la gente è molto confusa in questo, perché si perde in questa complessità di soprannaturale che poi si fa vedere, ma c'è. Perché è tutto artificiale, tutte esperienze che gli fanno vivere. Questo ci allaccia anche al discorso delle apparizioni emariane, degli stigmatizzati, e ci allaccia tutto. Io vorrei parlare anche degli stigmatizzati facendo alcuni riferimenti a persone che conosciamo, però poi pare brutto perché dici, ma guarda le persone... Però in realtà gli stessi nanorobot che producono ferite, quelli che usavano nella Bibbia, ti possono creare benissimo delle stigmatiche, te le creano. Magari le creano la prima volta. In Italia abbiamo Giovanni... Giorgio Bongiovanni, lo so. Lui era un appassionato di questi temi, era un seguace di Eugenio Siracusa. Sì, corretto, corretto. Un grande amico di Giorgio Cariello. Quindi grande rispetto per loro, ma come molti, non sapendo dell'esistenza di nanorobot italieni, si spiegano le cose in un'altra maniera. Invece di spiegarsene nel modo scientifico, razionale, logico, concreto. Ma come sei giunto però a questa conclusione del nanorobot? Come sei arrivato a... Guarda, io il nanorobot... Una teoria, io che ho sempre studiato questo, quando avevo poco più di vent'anni, ho cominciato a capire che esisteva la possibilità tecnologica di creare il nanorobot. Quando avevo poco più di vent'anni, adesso che ho poco più di sessanta, quarant'anni fa, ho capito quali potrebbero essere state tutte le applicazioni. Quindi ci arriveremo pure noi. Però loro ci sono arrivati molto prima, per noi sono un mistero, e invece per loro sono realtà quotidiane. E la usano. Ma chi è che le mette? Cioè, voglio dire, c'è una razza aliena, c'è la nanotecnologia, ok? Per esempio, uno ha una stigmate, uno ha queste visioni, chi è che però le rilascia? Ci deve essere sempre qualcuno di loro che... Sì, 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 ma li piloti, perché loro viaggiano a questi testi... Ah, ok, ok. Praticamente sono radiocomandati, come se fossero droni. Come se fosse un drone, un drone però in miniatura. Droni, molto piccoli, viaggiano in sciami, in sciami, e tu li puoi proiettare su chiunque. Questo non saprà mai che c'è là, perché sono estremamente piccoli, ma non li vedi proprio. Ti passano attraverso la pelle, li puoi inalare, li puoi mangiare, ma di solito passano attraverso la pelle, perché ti arrivano, e ti fanno vedere tutte le allucinazioni che vuoi. Nel caso di... Non vorrei dire di Giorgio Bongiovanni, ma io ho ipotizzato, almeno a livello mio personale, perché c'è un episodio dove lui si rivolge alla Madonna, mi sembra, che lui cade in ginocchio con queste stimmate. Perché... Non ricordo bene cosa diceva la Madonna, mi sempre diceva se che voleva condividere con Gesù. Non mi ricordo bene le frasi, però mi ricordo che lui cade in ginocchio con queste stimmate. Chiaramente, gli alieni che sanno un po' tutto di noi, anche perché ci possono leggere il pensiero, perché con questi nanorobot, loro sanno cosa pensiamo. Allora, hanno visto che era molto predisposto, dicono, beh, facciamogli avere questa cosa. Tac! E gli hanno fatto avere le prime stigme. e stigmatizzati. E funzionano così. Le apparizioni della Madonna, le varie madonne che appaiono a tutte le parti, in realtà, anche se molta gente dice no, ma le apparizioni della Madonna sono cose positive, perché dice cose carine, fate la pace, non fate la guerra, basta con le guerre, basta con le armi in oggetto. Ché! Però, nel momento che tu fai apparire una Madonna, che in realtà a livello reale non esiste, soltanto un'idealizzazione nella quale noi siamo stati portati a credere in tutto questo soprannaturale, è la conferma della faccia dell'altra medaglia che il soprannaturale esiste. Capito? Loro sì, ti fanno, allora, la base, il sottotraccia portante, la colonna portante, il satanismo di fondo, ma poi, quando ti fanno vedere le madonne, i santi, tutte queste apparizioni buone, in realtà è un rinforzo per dire guarda che il satanismo esiste, il diavolo esiste, l'inferno esiste, e tutto questo esiste, e il modo per rinforzare, sia pure dall'altra faccia della medaglia, l'idea del soprannaturale, del misticismo, e quindi ti portano tutta la popolazione umana a credere a un sacco di cose assurde e senza senso, allontanandoli, allontanandoli dalla scienza, dalla razionalità e dalla concretezza e dalla logica. Praticamente ti stordiscono e nessuno ci capisce più niente. La gente si arrende, dice no, non si capisce più niente, si arrendono di fronte a questa, perché non conoscono il trucco. Il trucco si chiama Nara. Incredibile. Come difendersi da queste cose? C'è il modo, c'è il modo. Poi ne parlerò accuratamente. Sì, sei un curioso. Quindi, questa cosa dei Nara, tra l'altro, spiega anche quello che è successo nella famosissima storia di Adam e Deva. Noi sappiamo tutti che Adam e Deva è una storia molto controversa, tutti dicono un po' di tutti, torna a questa storia, ma in realtà da quello che ho capito io, perché quando tu sai che esiste in Nara, riesci a spiegarti un po' tutto. Quello che ho capito io è che questi Elohim abitavano in questi ricinti, in questi terreni ricintati e protetti, come diceva, come dice Mauro Piglino, il Paradiso, no? e insomma abitavano lì e avevano bisogno della servitù, chiaramente, no? Chi li preparava da mangiare, chi li coltivava il giardino, chi li faccia le cose a casa, avevano bisogno della servitù. Questi vivevano migliaia e migliaia di anni. E a un certo momento, però, uno di loro si era stancato che questa servitù umana morisse presto, si ammalasse, perché tutte le volte doveva rinsegnare tutto di nuovo a qualcuno. Guarda, io, io quando vado a letto voglio una coperta messa così, quando devo mangiare io mangio una certa ora e poi, insomma, queste cose banali che si insegnano alla servitù, non come questi vivono migliaia e migliaia di anni, e mi diceva io lo so stupato che tutte le volte devo sempre stare a spiegare a qualcuno quello che voglio, come mi piace, quello che mi piace. E che cosa ha fatto questo, questo elohim? Ha detto, sai che faccio? Non lo dico a nessuno, però, io, a questi qui, al mio gruppetto, al mio gruppetto di servi, gli do i manorobot della lunga vita. Tra le funzioni dei manorobot che io ho parlato prima, ma c'è anche un'altra funzione che io mi sono dimenticato di spiegare prima, scusa, questa è una cosa molto importante. Praticamente, noi, se vogliamo imparare e prendere una laurea, studiare, dobbiamo stare lì, leggi, 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 impara un memoria, leggi, 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 uno sforzo pazzesco per memorizzare nei nostri neuroni, invece, loro hanno in ara della conoscenza. Praticamente, è come se fosse una rama aggiuntiva dove tu già sai a che temperatura bolle l'acqua, a che punto c'è il congelamento dell'acqua se c'è acqua salata o... La conoscenza, in pratica. La conoscenza, tutto, come è fatta la pianta, come si coltiva, questa pianta vannaffiata come, quest'altra, tutto, tutto c'è l'inciucolo per dire. Allora, questi sono i nanoroboli, in ara della conoscenza. Anche questi sono neurali, sono come un'aggiunzione. di memoria, ma sono tutti piccolissimi, non stiamo parlando di schede, non stiamo parlando di cose alla Frankenstein, stiamo parlando di cose piccolissime che sono perfettamente adeguabili, adeguate al funzionamento del cervello e del corpo umano. Non è un transumanesimo alla Frankenstein. Loro hanno superato il discorso del transumanesimo perché si sono mantenuti totalmente umani, ma con questi nanoroboti che non disturbano niente, anzi, arricchiscono intanto la loro conoscenza, la loro salute, le loro capacità di interagire con la tecnologia, tutto, è meraviglioso. Stanno migliaia e migliaia di anni avanti a noi, logicamente. Questi robot di nanoroboscienza, praticamente, a questa servitù dell'Elohim che ci aveva a casa, lui lo sapeva che non bisognava farlo, però l'ha fatto io e me, gli ha dato i nanoroboti della lunga vita e gli ha dato pure i nanoroboti della conoscenza. Questi poi sapevano come si cucinava, come si facevano le cose, come si provava, come si coltivava in giardino, come si produceva la frutta, conoscenza, come si tratta di tutto. Non è che gli sono stati insegnati, è meraviglioso, perché poi una volta che sono imparati questi non morono più, dice, ho svoltato, ho svoltato, però che è successo? Nel certo momento, come gli Elohim si incontravano pure da Deleuze, qualcuno di questi Elohim ha detto, ma scusa, ma questi servitui sono uguali a quelli che stavano qui cent'anni fa? Non sono invecchiati, manco un capello bianco di mia madre? E lì è venuto in mente, allora tu gli stai a dare quello che non gli dovresti dare. L'albero della conoscenza. L'albero della lunga vita e l'albero della conoscenza. E stavo a dare questo, perché erano bravi, sapevano fare tutto, non invecchiarli. Però questo è proibito. È proibito. Ma gli dico, che facciamo? L'ammazzano? No, non c'è bisogno, perché quando questi li cacci via, li cacci via e partoriranno con dolore, perché? praticamente la donna quando partorisce ha dei centri nervosi, in ara gli impediscono di sentire tutto sto dolore. Capito? I nanorobot sono capaci di isolare quei punti dove c'è un dolore eccessivo. Quindi la donna è chiaro che partorisce con dolore, non c'è più in ara. E non solo. E lui, l'uomo, avrebbe dovuto sudarsi con la sua fronte, perché avrebbe dovuto imparare da solo come si fa questo, ma si fa tentativi, errori, fatica qua, su da là, su da qua, e quindi non sarebbe stato tanto semplice. Una volta espulsi, senza prendere più questi nanorobot della vita, della conoscenza, che cosa è successo? È successo che poi questi gruppetti, simbolicamente, erano chiamati Adam e Eva, questo però era un gruppo, non era solo Adam e Eva, era un gruppo, però chiamiamoli Adam e Eva, hanno avuto dei figli, i loro figli, ovviamente non avevano con sé i nanoroboti, perché non ne avevano mai date, però che cosa avevano i loro figli? Avevano i telomeri allungati. Avendoli allungati, perché l'allungamento del telomero rimane geneticamente, i genitori hanno fatto dei figli che avevano mai allungati, però con passare delle generazioni e i sensi nanoroboti, i teletrahi si riaccorciavano, si riaccorciavano, fino a diventare normali. Infatti, Adam e Eva hanno vissuto 900 anni, i loro figli 800, i loro nipoti 700, non può essere 100, 500, 400, 200, 120, 100, insomma, quello l'ottantina. Troviamo questo nella Bibbia, c'è scritto nell'Antico Testamento, racconta... Sì, sì.